Ciao ragazzi e ragazze, sempre per le ricette natalizie avevo pensato di fare un tiramisù ma un po' con delle aggiuntine. Per chi per esempio non piacciono tanto i marron la sé, siccome c'è chi piace e chi non piace, avevo pensato per non farlo sentire tanto, per non mangiarlo proprio così asciutto, di metterlo a pezzettini con dei pezzettini di cioccolato e nocciola dentro nella crema del tiramisù. Ragazzi non lo so perché almeno un marron la sé intero in bocca è troppo, è troppo dolce e nauseante. Invece fatto a pezzettini, mischiato insieme alla crema, dovrebbe essere delizioso. Quindi un tiramisù natalizio, diciamo così. Vediamo gli ingredienti. Dei savoiardi, del caffè, il mascarpone, una ricottina, una confeziocina di panna senza lattosio. Io ho tutto senza lattosio e anche il mascarpone. 4 marron la sé, un cucchiaio di zucchero e del cioccolato fondente con le nocciole. Allora, prima di tutto mettiamo il nostro mascarpone nella ciotola. La nostra panna, sempre senza lattosio. E la nostra ricotta. Un cucchiaio di zucchero. Prendiamo i dinostri marron la sé e li tagliamo a pezzettini. E li mettiamo dentro. E' uscito. E anche questo lo facciamo a pezzettini. Così. E lo mettiamo dentro. Dei bei pezzetti che dentro si devono sentire. Prendiamo un contenitore. E bucciamo nel nostro caffè i savoiardi. E facciamo il fondo. Prendiamo la nostra crema golosa. E ancora la crema. Benvenuta in mente la decorazione. Non so se è bella o no. Però io pensavo di fare con dei savoiardi, siccome è avanzato ancora un pochettino di caffè, imbevuti, fare tipo una stella dentro. Però tagliandoli a metà, sennò è troppo lunga. Adesso provo. Aspetta. Prima prendo un piatto per sicurezza. Per farlo qua. Poi se mi piace. Due. Tre. Due quarto. No. Adesso vedi che... Ma no. Me l'ha fregato il caffè. Ah, veramente. Meno male che ce ne ho ancora. Tipo così. Sembra una stella. Sembra un fiocco di neve. Che la stella. Comunque la decorazione fatela come volete voi, eh. Senza uova, senza lattosio, così non vi viene lo square house. Semplice, sano e anche per i bambini, così non c'è il liquore. Ragazzi, come sempre, chi vuol fare le mie ricette natalizie, mi manda la foto su Instagram e io ve le metto nelle storie. Un bacione a tutti e un abbracione. Ciao. Ciao. Buon bello.